Io sono Massimo Conte e stasera sono qui in veste di coordinatore editoriale del Complex Education Project e a parte questo nella mia vita professionale mi occupo di formazione digitale per grandi organizzazioni e vi ringrazio anche per essere stasera qui insieme mentre in conferenza stampa il mio premier omonimo sta ancora parlando quindi insomma siete davvero interessati questo vuol dire. Allora primo punto obiettivo di questa serie di incontri. Questo è il secondo incontro del nuovo ciclo di seminari che si intitola nuove domande per un nuovo mondo per affrontare consapevolmente scenari complessi. L'obiettivo quindi è quello di immaginare gli scenari futuri post crisi da coronavirus e per aiutarci a comprendere in che modo il paradigma della complessità può aiutarci a muoverci nel futuro prossimo. Quello che abbiamo provato a portare in queste serate e che proveremo a portare sono le domande più che le risposte che in questi mesi abbiamo cercato per recuperare certezze in un mondo che stava cambiando velocemente e che sta ancora cambiando velocemente intorno a noi. Quindi l'obiettivo è quello di accrescere la nostra consapevolezza nei comportamenti che abbiamo quando agiamo nel mondo. Quindi in parte l'obiettivo è anche cercare di incuriosire e cercare di saperne di più. Questo potrebbe essere un'ottima via riuscita da questa serie di meeting del McCoy di sera. In tutto siamo a due della nuova serie più alti 4 che hanno già stati organizzati prima dal complexo di institute. Quindi è già un mese e mezzo che ci ritroviamo almeno con un gruppo di affezionati tutti i mercoledì sera. Quindi per domandarci riflettere sul mondo e sul modo in cui pensiamo. E poi il tema specifico di questa serata. Vi anticipo già da adesso che se volete il mercoledì prossimo 20 maggio si terrà un nuovo webinar dal titolo Il valore del passato per la costruzione del futuro. E si parlerà di arte con Beppe Zollo e Stefano Consiglio, moderati da Simonetta Simone. Quindi il tema delle domande sarà definato mercoledì prossimo sugli aspetti della storia dell'arte come via per il futuro e sulla mediazione culturale nella funzione dei luoghi. Allora, secondo punto, gli organizzatori di questa serie di meeting. Questi eventi sono organizzati da Complexity Institute, di cui stasera abbiamo qui la presidente Marinella De Simone, che avete sentito parlare prima di me, da Dario Simoncini, docente di organizzazione e comunicazione all'Università di Pescara, che ha anche moderato il precedente webinar di mercoledì scorso con Vera Geno e Delico Cerni a proposito di parole e linguaggio. Il Complexity Institute è un'associazione che si occupa di promuovere e diffondere la cultura della complessità tra le persone e le organizzazioni sociali. Il secondo organizzatore di questa serata è l'organismo di cui faccio parte, il Complexity Education Project, che è un gruppo di ricerca che si dedica allo studio su sistemi complessi e fa riferimento all'Università di Perugia. Valerio Letti ne è presidente fondatore e Piero Domenici direttore scientifico. Negli anni passati, come Complexity Education Project, abbiamo già organizzato più eventi anche per il prestito della complessità e grazie a Piero Domenici tra le tante cose portiamo avanti i progetti di ricerca internazionali e attività di diffusione del consigliere complesso anche nelle scuole. Altro punto importante per organizzarci su questa serata è i tempi. Allora, la serata si svolgerà così, terminerà alle 22.30, quindi abbiamo un'ora e mezza circa, un po' meno, un'ora e venti. In una prima parte ascolteremo gli interventi dei due ospiti di questa sera, che sono Anna Maria Testa e Fernando Gianconti. Ognuno di loro avrà a disposizione circa 15-20 minuti. Voi nel corso di tutta la serata potrete scrivere le vostre domande nella chat, tutta la serie di webinar sulle domande, quindi oltre alle domande che porteranno i nostri ospiti, ci aspettiamo, ci farà piacere condividere insieme anche le domande e i dubbi che caprete in un'ottica generativa di costruzione di senso. Io nel corso della serata riprenderò le domande che voi scriverete nella chat. Siccome siamo tanti, però mi scuso anticipatamente se non riuscirò a girarle tutte ai nostri ospiti. Quelle che resteranno in evase dopo il meeting le sintetizzeremo e le nostre inorteremo ad Anna Maria Testa e Fernando Giancotti in base agli argomenti per avere poi una risposta che a posteriori pubblicheremo sui nostri siti del complexity institute e del complexity education project. Quindi riassumendo, prima parte intervento degli ospiti, al termine dei loro due interventi ognuno porrà una domanda all'altro, questa è la parte un po' più stossicante, e poi nella seconda parte spazza le vostre domande per riflettere insieme su quello che è emesso da questa serata. Il titolo dell'incontro di questa sera, anche se ormai già lo sapete se vi siete scritti, è quali domande e per quale futuro. Un problema complesso, in questo inizio 2020 abbiamo fatto tutti esperienza di un problema, o meglio, di un problema di problemi, cioè che ne portava altri anni d'Italia. Quindi un problema complesso, dicevo, è un problema caratterizzato dall'incertezza, con molte variabili interconnesse. E davanti a un problema complesso, come ci poniamo? Come si deve porre un leader o un decisore? Deve sì fornire risposte, ma diventa fondamentale capire anche quali sono le domande giuste da fare. Gli ospiti. Allora, in questi meeting che stiamo organizzando, cerchiamo sempre di mettere a confronto due punti di vista diversi, con lo scopo appunto di generare significati nuovi e a volte imprevisti, come è capitato già nelle altre serate. In questo caso abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Anna Maria Testa, esperta di comunicazione e creatività, scrice, docente, creatrice del sito nuovoeutile.it, specializzato nella divulgazione di teorie e pratiche della creatività. E tra le tante cose i suoi articoli sono anche pubblicati su internazionale.it. I suoi articoli, almeno per me, sono un appuntamento di lettura visto per provare a comprendere molte delle dinamiche in corso, proprio per riflettere e generare nuove idee. E poi abbiamo con altrettanto piacere Fernando Giancotti, generale di squadra aerea dell'Aeronautica Militare e presidente del Centro Atti Scudi per la Dipesa e inoltre membro del Comitato Strategico Global Governance dell'Università di Roma Dolbergata. È un esperto di complessità ed autore del libro Leadership Facile nella complessità. Adesso arrivo al punto, inizio a stringere prima di lasciare la parola d'Anna Maria Testa. Probabilmente la giornata è stata lunga per molti, quindi vi chiedo solo pochi secondi di attenzione per provare a fare insieme uno sforzo di immaginazione. Immaginate che state facendo un sogno, state camminando in una casa che sembra la vostra casa, improvvisamente attraversate il corridoio, sicuri di trovare a destra una porta, ma la porta non c'è. Continuate ad andare avanti e dove vi aspettavate di trovare la cucina? La cucina non c'è, ma c'è il soggiorno. Quindi quella che sembrava casa vostra, all'improvviso non la riconoscete più. Cosa sta succedendo? È cambiato il mondo intorno a me? È un sogno o un incubo? E se invece di essere cambiato il mondo fosse cambiata la mia percezione? Se fosse un film di Christopher Nolan, come ad esempio Inception, a questo punto dovreste svegliarvi e rimanere però con il dubbio che è stato ancora in un altro sonno. In realtà quello che ci è successo in questi mesi non è molto diverso da quello che vi ho appena raccontato. Almeno come sensazioni, straniamento, disorientamento, un grande sforzo cognitivo ed emotivo che abbiamo fatto per cercare di capire cosa diavolo stesse succedendo, chiusi in casa ma in connessione totale e profonda con il mondo là fuori, incerti sul presente e dubbiosi sul futuro. E ci siamo chiesti in continuazione soprattutto che cosa sta succedendo, come posso pensare il futuro, come lo penso diversamente rispetto a quello, al modo in cui lo facevo solo pochi mesi fa. E quindi proprio perché in questi webinar cerchiamo di interrogarci sulle domande utili per comprendere il nostro mondo, mi fermo qui con le domande. Lascio ora la parola ad Anna Maria Testa che ci guiderà nei prossimi minuti tra percezione, bias cognitivi e comunicazione. La parola a te Anna Maria. Anna Maria, il microfono è staccato ancora. Qua. Ok. Fantastico. Allora, ripeto, buonasera a tutti, grazie per essere qui. È una sfida stimolante, assai ragionare di futuro, di quelle domande posi sul futuro, sapendo che ci ricordava Harari che l'umanità in realtà ha una finestra di pochi mesi per determinare in quale direzione andrà il suo futuro, che è il momento percorsi delle domande gigantesche che riguardano il problema dell'equità sociale, il tema dell'ambiente del riscaldamento climatico, gli obiettivi dell'economia, i rapporti tra stati. Sono veramente domande gigantesche. Ma c'è una domanda, c'è una serie di domande preliminari che dovremmo porci e che troverò a porvi e sulle quali troverò a ragionare con voi. È un piccolo passo indietro che ci mette in condizione di compiere con più energia un grande salto, mi auguro, verso il futuro. E la prima domanda è, ma siamo davvero in grado di immaginare un futuro? La risposta è viva e sì. Gli esseri umani sono gli unici che ci riescono e il futuro è una dimensione squisitamente umana. Tra gli altri esseri viventi, solo i corvi, ci dicono i ricercatori, e alcune grandi scimmie hanno un embrione di percezione del futuro. La loro percezione del futuro è sorprendente perché sono animali, ma si tratta di qualcosa di incommensurabilmente piccolo rispetto alla nostra percezione del futuro. Noi esseri umani cominciamo a ragionare di futuro e ad avere un'idea di futuro tra i tre e i cinque anni, quando diventiamo capaci di recuperare le memorie del passato. E questo è un dato fondamentale. Le neuroscienze ci confermano che le strutture neurali coinvolte nel progetto del futuro sono le stesse che sono coinvolte nella memoria del passato. Anticipare e ricordare sono due processi molto simili. Può sembrare paradossale, ma non è vero. Se pensate che gli unici materiali di cui disponiamo per delineare, per costruirci un'immagine di futuro, sono le cose che abbiamo già nella testa, quindi le nostre memorie del passato. Il legame tra futuro e memoria è confermato da una evidenza incontrovertibile. I pazienti che soffrono di amnesia in seguito a un danno cerebrale, per esempio, non sono in grado di ricordare il passato e per questo non sono in grado di fare nessun pronostico o nessuna fantasia o di immaginare alcun futuro. Questo ci dice un'altra cosa importante. Ci dice quanto è fondamentale studiare la storia. Perché è un futuro, si tratta di un passato che non abbiamo visto direttamente, ma che può avere delle proiezioni importanti sul futuro di tutti noi. Se noi ci dimentichiamo la storia, perdiamo anche una visione di lungo termine nel nostro futuro. La nostra proiezione nel futuro si accorcia. Un'altra cosa importante che viene fuori da questo è che sarebbe fondamentale parlare con gli anziani, conservarseli e infine che perdere pezzi di passato significa perdere pezzi di futuro possibile. Dicevo, la prima regola per costruirsi un futuro è avere una buona quantità di materiali e poi riuscire a immaginarlo. Perché solo chi immagina un futuro riesce poi a costruirlo. Ma immaginare il futuro o immaginare diversi futuri possibili ci serve anche a proteggerci dalle minacce possibilmente contenute nel futuro. E ce ne sono diverse, lo sappiamo. C'è un problema però. In situazioni di emergenza ragionare su un futuro ci riesce difficile. Perché come è fatto il nostro cervello, che tutto sommato non è tanto diverso dal cervello che avevamo nel Pleistocene, noi siamo capaci di proteggerci bene da una minaccia chiara, immediata, istantanea. E reagiamo subito perché ci gratifica troppo, ci solleva liberarci. Non siamo così motivati e non siamo così bravi a proteggerci da una minaccia insidiosa, graduale e protratta nel tempo. Pensate alla Covid-19, pensate al riscaldamento globale. Per questo dobbiamo fare uno sforzo per inserire questi elementi nella nostra visione, nelle nostre ipotesi di futuro. C'è un altro elemento che complica il progettare il futuro. Noi viviamo in un presente così esigente da togliere spazio al futuro. Pensate ai manager nelle aziende che sono incalzati dall'obbligo delle trimestrali. Pensate ai politici incalzati dalle altalenanti sorti dei sondaggi. Pensate a tutti noi che siamo persi costantemente nell'infinito presente, istantaneo e totalizzante della rete. E così facciamo fatica a tornare indietro e ad andare avanti. La nostra capacità di muoverci lungo l'asse del tempo si accorge. Sopravalutiamo per esempio anche i rischi che sono facili da immaginare, anche se sono poco probabili. Molti sono spaventati dai viaggi in aereo, muoiono più pedoni che passeggeri aerei, nessuno lo sa per esempio. Sopravalutiamo i rischi complessi perché sfuggono alla nostra immaginazione. Quindi se volessimo rispondere a questa prima domanda potremmo dire sì certo il futuro è una dimensione umana, è una dimensione che appartiene solo a noi e che in questo senso ci responsabilizza anche molto. più abbiamo memoria del passato, più ampia sarà la nostra capacità di immaginare il futuro. Ma, e questa è la seconda domanda di questa ideale catena che vi propongo, sappiamo anche farci le domande giuste sul futuro. Cioè, abbiamo abbastanza dati di buona qualità in mente, abbiamo abbastanza materiale per poi configurarlo in scenari e in domande e risposte sul futuro. Ecco, sì e no. Noi siamo tutti fiduciosi nei confronti delle robe che abbiamo in mente, ma non sempre sono proprio cose di ottima qualità. Andiamo a vedere perché. Le nostre percezioni del mondo possono essere involontariamente ma profondamente distorte. Ed ecco come funziona. Noi percepiamo, e poi ne riparlo fra un pochino, una quantità enorme di stimoli, di dati dal mondo esterno. Ne scegliamo alcuni e per elaborarli in fretta, in modo da reagire in maniera adeguata ai cambiamenti del contesto, prendiamo delle scorciatoie che si chiamano euristiche. Sono modi abituali di pensare che costruiamo, processi di pensiero che costruiamo in base all'intuito e all'esperienza pregressa. Di solito le euristiche funzionano molto bene, ci aiutano a districarci dentro realtà complesse. Che cosa succede però? Se invece di ragionare a partire da dati di realtà, da percezioni affidabili, noi ci scordiamo la realtà e ragioniamo sulla base di pregiudizi o di percezioni fallaci e distorte, allora le scorciatoie euristiche che pratichiamo diventano vicoli ciechi e le euristiche diventano bias cognitivi, cioè modi ingannevoli e sbagliati di interpretare i dati, dei dati di partenza che sono sbagliati. I bias cognitivi che sono stati registrati sono centinaia. Ne ho raccolto qualcuno qui, giusto per fare qualche esempio, e ho raccolto quelli che hanno distorto, in particolare presso i decisori politici, ma anche presso i giornalisti, i leader e molti di noi, la percezione dell'accordo del 19. Ecco qualche esempio. Il bias di conferma consiste nel prendere in considerazione solo i dati e i fatti che sostengono la nostra opinione progressa e nell'ignorare tutti gli altri. Navigare in internet tra l'altro ci aiuta molto perché noi ci troviamo dentro delle echo chambers, delle camere dell'eco, che ci rimbalzano soltanto notizie che sono affini ai nostri interessi. Quindi il bias di conferma ci dissuade dal cambiare opinione nel caso abbiamo un'opinione sbagliata. C'è il bias dell'ottimismo che ci porta sempre a sottostimare la probabilità che qualcosa vada male. Pensiamo che se qualcosa andrà male capitano dagli altri, pensiamo di essere immortali, invulnerabili e immuni da qualsiasi rischio. Se pensate a un paio di leader politici che stanno dicendo da loro in questo periodo, avete bene in mente come funziona questo bias. C'è il bias dello status quo che consiste nella tendenza a non cambiare posizione, a non prendere decisioni che possano alterare la condizione attuale, sovrastimando i rischi del prendere decisioni e sottostimando i rischi del non prendere decisioni. Con questo bias è connesso il bias di omissione, che ci dice che sembra più etico sbagliare per non aver fatto niente che sbagliare per aver fatto qualcosa. C'è un altro bias che si chiama overconfidence, che è la condizione di sicurezza di chi ha troppa fiducia nei propri criteri di giudizio e quindi si rifiuta di metterli in discussione anche di fronte a evidenze avverse. E c'è il bias del punto cieco, che è la gran madre di tutti i bias, il suo gran padre di tutti i bias. è la percezione, la convinzione di essere immuni dai bias. Tutti gli altri ce li hanno, ma io sì che ragiono bene. Ecco, quindi siamo in grado, siamo capaci, abbiamo materiali buoni per porci delle buone domande sul futuro. Sì, a patto che stiamo attenti di non mettere in atto ragionamenti inquinati da bias. Anche sui nostri modi di pensare vale la regola dei programmatori garbage in, garbage out. Se io parto da pregiudizi, non riuscirò mai a sviluppare un ragionamento sensato sulla realtà. E arriviamo a una terza e ultima domanda. Possiamo arrivare a una visione condivisa del futuro, una volta che abbiamo cominciato a farci un'idea. Sarebbe auspicabile, visto che condividiamo tutti lo stesso pianeta, e quindi condividiamo anche dei dati di partenza. Ma se i dati di partenza sono gli stessi, le nostre percezioni, le nostre idee del mondo sono tante quanti siamo tutti noi. Il fatto vero è che la realtà sta fuori di noi e è inconoscibile. Quello che noi conosciamo è l'elaborazione della realtà che avviene dopo che la realtà è passata attraverso i nostri organi di senso, e dopo che è entrata sotto forma di stimoli nel nostro cervello, e dopo che è stata elaborata nel nostro cervello. E quindi quello che noi sappiamo della realtà in verità è quello che noi abbiamo percepito, conosciuto e che crediamo e giudichiamo del mondo che ci circonda. È una frazione minima di realtà, perché solo una frazione minima degli infiniti stimoli che ci circondano colpiscono i nostri organi di senso, sono gli stimoli a cui prestiamo attenzione. Se per caso state seguendo la mia voce, probabilmente avete perso la percezione della stanza che vi circonda o della seggiola su cui siete seduti o dei vostri piedi appoggiati sul periodo. Sono stimoli disponibili, ma voi non li state percependo perché la vostra attenzione è altrove. Voi avete dei, tutti noi abbiamo dei coni d'attenzione molto limitati e tutto il resto ci sfugge, vola via, e magari dentro il resto c'è qualcosa di importante. Quindi percepiamo una frazione minima del mondo che ci circonda. È una frazione filtrata e trasformata dai nostri organi di senso che trasformano per esempio sistemi di onde in suoni e colori. I colori non esistono, i suoni non esistono, sono onde. Siamo noi che li percepiamo così come li vediamo. Un bel tramonto è un bel tramonto solo nel nostro sguardo e nella nostra mente e magari nella condivisione che ne facciamo. E tutto ciò è elaborato dal nostro cervello e ciascun cervello contiene memorie, ricordi, cognizioni diversi e quindi elabora tutto il pacchetto di stimoli che si è incamerato in modo diverso. Per tutti questi motivi ciascuno ricostruisce dentro di sé una realtà e il senso che i dati di realtà che ha recepito hanno a modo suo. Facciamo un esempio elementare, visto che siamo appena dopo cena. Prendete lo stesso piatto di spaghetti e mettetelo davanti a un cuoco, a un bambino piccolo, a una persona affamata, a una persona celiaca, a una persona che sta a dieta, a uno che fa il responsabile degli acquisti per un supermarket e a uno che organizza delle mese. E vedrete che ciascuno di loro ha un'immagine del medesimo piatto di spaghetti molto diversa, ma voi stessi avete un'immagine diversa, una percezione diversa di quel piatto di spaghetti se sono le sei di mattina e vi siete appena 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 svegliati in vostro unico desiderio è un caffè o se è ora di pranzo, o se siete in barca e vi sta venendo un po' di mal di mare. Ecco, quindi le nostre percezioni non solo sono filtrate dai nostri sensi, ma sono filtrate dai nostri sistemi di competenze, dallo stato psicofisico, perfino dall'ora del giorno. Le nostre percezioni cambiano man mano che arrivano informazioni aggiuntive. La percezione del piatto di spaghetti cambia se io ho appena letto su un sito che mi sembra affidabile o su una testata che mi sembra affidabile, attenzione ci sono in giro degli spaghetti avelenati. E cambia ancora quando poi leggo, no, attenzione, si tratta di una fecchia di rosa. In altre parole, la nostra percezione è un bidaga, è fatta di una quantità di elementi complessi, è parziale, è altalenante, risente dei nostri umori, del nostro stato di stanchezza e può essere facilissimamente manipolata, sia in base alle informazioni disponibili, sia in base alle false informazioni che ci colpiscono. Ecco, aggiungo solo che c'è un'indagine pluriennale realizzata da Ipsos, estesa a 38 paesi e uscita l'anno scorso, intitolata The Perils of Perception, i pericoli della percezione. Questa indagine che vi invito ad andare a consultare ci dice che su 28 paesi gli italiani sono primi per percezioni affette da bias e distorte. Sono pronti a sottostimare o sovrastimare anche argomenti importanti riguardanti, per esempio la salute, i migranti, la disoccupazione, eccetera. Tutto questo ci fa capire che possiamo avere non solo distorsioni percettive dentro le singole persone, ma anche dentro gruppi di persone o dentro interi paesi. E che questo complica moltissimo il progetto del futuro, dobbiamo tenerne conto. In tutto ciò appare miracoloso, e vado a terminare, il fatto che riusciamo, nonostante tutto, a capirci. Abbiamo sviluppato alcuni strumenti meravigliosi, magici, per trovare a capirci. Sono gli strumenti linguistici, il linguaggio delle parole, che ci permette di, se non altro, di nominare allo stesso modo le stesse cose e di ricostruire secondo grammatiche condivise dei processi di pensiero e di nominare anche cose astratte, di nominare perfino sogni e desideri ed emozioni e forme di relazioni. Abbiamo il linguaggio dei numeri, che ci permette di dare consistenza e di stimare l'entità dei fenomeni. Abbiamo il linguaggio della musica, che ci permette di trasmettere emozioni, tutto ciò che supera le parole. Abbiamo il linguaggio delle arti visive. Ecco, questo sistema, che noi possiamo chiamare in termini ampi e ammirati, produzione culturale, è quello che ci permette di, da una parte, di allinearci, dall'altra, di riconoscerci come appartenenti al genere umano. E quindi, nel momento in cui abbiamo costruito strumenti per condividere, forse potremmo, usando bene e con accortezza e entusiasmo, quegli stessi strumenti, anche disporci a considerare il futuro. In sostanza, e qui concludo, per confrontarci sul futuro, dobbiamo allineare le nostre percezioni del presente, che in realtà possono essere anche drammaticamente diverse. dobbiamo usare le parole per confrontarci, per discutere anche animatamente, e per condividere percezione. Dobbiamo scambiarci dati, dobbiamo condividere musica, arte, bellezza e valori, perché è sui valori che poi il progetto del futuro dovrà orientarsi. Grazie. Allora, grazie Anna Maria, intanto per questo percorso breve, ma estremamente intenso e ricco di stimoli. Le domande che sono uscite fuori sono già molte. Io ricordo a tutti quanti che adesso faremo una seconda parte di percorso insieme a Fernando Giancotti. seguirà una domanda di Anna Maria a Fernando, o una di Fernando e Anna Maria, dopodiché inizieremo a condividere insieme le altre domande che stanno uscendo e che io intanto sto già appuntando. E quindi per passare a questa seconda parte di percorso facciamo un attimo il punto. C'è quindi la comprensione della complessità della realtà, abbiamo visto, e la consapevolezza della nostra percezione che può essere condizionata da Paias. Però, diciamo però, se in questo panorama complesso dobbiamo agire, come possiamo fare? Se dobbiamo risolvere dei problemi, se dobbiamo gestire il cambiamento, se dobbiamo cercare di essere efficaci come individui e come gruppi. La complessità è un limite o un'opportunità? Dopo tutta questa altra serie di domande che ho messo nel pentolone di questa serata, passo ora la parola a Fernando Giancotti che ci guiderà per un'altra parte di percorso. la parola a te Fernando. Grazie Massimo, saluto tutti. Grazie Anna Maria per questa stimolante introduzione che si collega bene al mio discorso. Voglio però partire proprio dal pratico. Quando mi ha chiamato Dario e mi ha proposto questo intervento ponendomi il titolo Nuove domande per un nuovo mondo, il titolo della serie per affrontare consapevolmente scenari complessi. La prima domanda che mi sono posto è stata ma nuove domande, ma quali domande dobbiamo porci oggi in questa nuova situazione? E per quale futuro? Quale futuro vogliamo? perché questo è un nuovo mondo e mi sono interrogato su questo e ho scoperto che dopo questa riflessione nella mia percezione ovviamente soggettiva, ho scoperto che le domande giuste ce le eravamo fortunatamente già poste. Io vengo negli ultimi anni da un'esperienza molto intensa di gestione di grandi organizzazioni dove la compulsione a un senso di realtà è molto importante perché è facile perdere il contatto con la realtà. E questa attenzione alla realtà dell'organizzazione, delle persone e del contesto ci ha portato a formulare proprio delle domande. La risposta a queste domande, la risposta alle sfide, alla complessità che quotidianamente, a prescindere da quale tipo di organizzazione, ma quotidianamente tutti noi confrontiamo, è stata che abbiamo bisogno oggi di leadership, di capacità di gestire il cambiamento e l'innovazione. Leadership perché le cose noi le facciamo insieme, le facciamo in gruppo e la leadership è l'elemento che più influisce sulle dinamiche dell'azione collettiva. La leadership non è la leadership del capo, è la leadership distribuita nel sistema umano che consideriamo. La leadership non è la leadership soltanto di se stessi, del piccolo gruppo o dell'organizzazione. La leadership è anche la leadership strategica, quella che comprende la complessità e riesce a individuare le strategie per influenzarla e a comunicare la semplicità che è oltre la complessità. E questo è quello che ci siamo detti. Poi ci siamo detti, bisogna anche saper gestire il cambiamento perché se sai fare leadership potresti essere un buon leader in una situazione statica, ma invece bisogna assumere un altro mindset come era stato proposto in uno dei titoli. Un'altra forma mentale ed è quella di cambiare continuamente, di essere a proprio agio nell'incertezza e anche questo non basta perché ponendoci domande abbiamo visto che c'è un'altra importante dimensione che oggi è più che una dimensione ma ingloba tutte le altre dimensioni ed è esattamente quella che stiamo vivendo in questo istante, quella che Luciano Floridi chiama la infosfera, la on-life ed è la dimensione digitale che ha già cambiato e cambierà sempre di più le nostre vite nel senso non soltanto fenomenologico ma proprio ontologico. Una volta che ci siamo posti queste domande ci siamo dati queste risposte abbiamo deciso di fare qualche cosa per avviarci sulla strada che trasformasse questi concetti, queste idee in fatti e al 20 aprile dell'anno scorso abbiamo, è iniziato in maniera completamente irrituale un nuovo percorso formativo per dirigenti fatto dal mio centro in collaborazione con l'Università di Salerno e qui abbiamo la professoressa Di Nolfi che è la co-direttrice di questo master in Leadership, Change Management e Digital Innovation c'è anche Guido Ridoni che ci ha seguito da vicino e che è un amico e collaboratore in varie forme e qui presente stasera. Abbiamo costruito questo prodotto non perché pensavamo di salvare il mondo con questo prodotto ma perché ci sembrava la risposta giusta. Il master è ancora in corso e sta nelle fasi finali ed è successo tutto questo. E allora mi sono chiesto ma ora che è successo tutto questo quali sono le domande che dobbiamo aggiornare quali sono le domande che rimangono e le domande e qual è il futuro che vogliamo e le domande sono le stesse con una grande differenza che mentre prima erano secondo noi la strada giusta per cercare di rendere il nostro paese più come dire efficiente, efficace e auspicabilmente anche più equo e dico sostenibile non perché va di moda ma perché se uno approccia il sistema nell'insieme deve occuparsi degli equilibri perché il sistema sia sostenibile e sia in grado di produrre il valore che si spera quindi abbiamo avviato questa questa impresa e oggi ci rendiamo conto che è quello che serve la differenza è che oggi è essenziale prima era un nice to have oggi è survival e quindi questo perché perché passando da un 130% del debito a un presunto 160% e speriamo bene vicini all'orlo di un default e speriamo nel sistema diciamo che di compensazione e nella solidarietà di cui si parla ma siamo a rischio tantissime imprese siamo a rischio esistenziale il paese a mio avviso è ha davanti una sfida grossissima noi abbiamo bisogno di leadership di change management e di digital innovation ma non per i 30 frequentatori del master 10 militari e 20 civili ma per l'intero paese e questa capacità deve essere in grado di comprendere la complessità e soprattutto la rapidità e qui mi allaccio a quello che dice Anna Maria e noi non siamo fatti per comprendere la complessità e la mutevolezza rapidissima qui potremmo parlare a lungo e non è il caso ma non siamo fatti per questo abbiamo tutti i web bias e molte emozioni che li diciamo attivano potentemente e quindi dobbiamo sviluppare una capacità di comprendere una capacità di pensare una capacità di elaborare strategie di influenza sui sistemi complessi che non possiamo determinare ma possiamo influenzare se abbiamo gli strumenti per farlo questa capacità di pensare deve essere a livello strategico deve essere dico io rispondente a un'equazione che è fatta di pensiero critico di pensiero creativo e di pensiero sistemico il prodotto di questi filoni del pensiero è un metapensiero costante che ci che pensa come pensare che pensa ai nostri bias e che rifiuta il modello dell'urlare e del semplificare dilagante ecco questa capacità di pensiero deve essere in grado di comprendere l'insieme nelle relazioni nelle dinamiche nell'immaginare strategie per conseguire i fini oggi più importante che mai abbiamo anche riflettuto in questo periodo più di quanto avessimo fatto prima per il rallentamento delle nostre vite e per diciamo le riflessioni appunto che emergevano dal constatare sofferenza impatti inimmaginabili sulle vite delle persone sulla vita e sulla morte ma anche sul nostro futuro e questa grande incertezza che ha relativizzato molte della nostra fretta e della nostra dei nostri diciamo traguardi e io non so quanto durerà ma mi auguro che serva questa riflessione a come dire supportare una una maggiore attenzione a un elemento centrale che è quello che ha citato anche Anna Maria un l'uomo un umanesimo che non si può dimenticare e anche nella nostra diciamo nel nostro investimento sulla sulla cultura digitale siamo stati ben attenti a definire questo questo percorso uno sviluppo antropo digitale prima antropo e poi digitale adesso è bisogno di fatti perché quando la nave rischia ad affondare prima la nave era lenta era molto lenta tra quelle della sua categoria oggi a mio avviso rischiamo di affondare e non voglio far l'uccello del malaugurio e probabilmente rimarremo a galla ma un rischio io lo vedo concreto noi in questo momento dobbiamo considerarci in emergenza e la complessità ci aiuta non solo ci aiuta perché l'approccio complesso è molto utile per comprendere e per promuovere il pensiero sistemico noi lo utilizziamo dal 2010 abbiamo adottato moduli formativi alla complessità per la formazione dei nostri dirigenti strategici proprio per la promozione del pensiero sistemico quindi noi dobbiamo non so per questo per questo dobbiamo quindi utilizzare la complessità come ausilio alla comprensione e è meritorio all'opera che fate voi nel complex ed istituto e dobbiamo anche utilizzare la complessità per influenzare i sistemi complessi attraverso strategie appunto di influenza la complessità ci dà anche un richiamo a un'etica dell'equilibrio perché poi l'etica quello è l'etica è equilibrio tra interessi tra l'interesse del singolo e quello del gruppo e l'etica torna centrale e torna centrale anche nella riflessione che è stata fatta il dilemma tra defezione e collaborazione è stato immanente in tutto questo periodo insomma e con questo chiudo l'altro insegnamento che viene dalla complessità e che ci ha spinto a fare questa nostra iniziativa parlo del master che poi ha generato molte influenze sul sistema abbiamo ridefinito tutti i curricula del centro grazie all'esperienza del master e abbiamo fatto molte altre cose che non sto a dire ma la complessità ci dice che quando le dinamiche interne al sistema raggiungono un certo livello di scambio e emergono diciamo tendenze aggregative di alcuni cicli si possono verificare ipercicli che poi fanno saltare il sistema a un altro livello di ordine beh noi siamo in un momento dove ognuno deve fare la sua cosa deve fare la sua piccola cosa come questa come il nostro master come la nostra piccola rivoluzione in un centro che forma l'alta dirigenza di tutte le forze armate sostanzialmente ma che sono una piccola cosa nell'ambito dell'intero paese beh ognuno di noi deve fare la sua parte collegandosi quanto più possibile e questo è il motivo per cui io sono qui stasera perché voi state facendo qualcosa noi stiamo facendo qualcosa ci stiamo collegando se riusciamo a generare visto il momento speciale molta di questa dinamica può essere che si genere l'iperciclo che ci salverà se non proprio dall'affondamento sicuramente da una dolorosa lunghissima stagnazione è foriera di ulteriori disequilibri di ulteriore povertà e di ulteriore conflitto io non voglio dire altro e attendo la domanda diciamo capitale di Anna Maria che meraviglia posso dire due cose prima della mia domanda ci sono due pensieri concetti straordinari in questo e mi prendo la briga di dirli il primo è questa idea del triplice pensiero critico creativo e sistemico questo schema mi sembra illuminante meraviglioso e la seconda idea importantissima mi sembra questa l'etica è equilibrio io sono una figlia di Gregory Bateson e trovo straordinaria questa sintesi detto questo invece faccio una domanda frivola sia allo studioso di leadership e sia al militare c'è qualcosa fenomeno evento situazione persona che ti manda immediatamente fuori dai gangeri in maniera incontrollabile e se sì come reagisci? guarda è quasi incredibile perché questo si collega alla domanda che volevo farti io perché mi è venuto in mente perché mi è venuto in mente mentre parlavi poco fa quindi è singolare questo no? tu che sei una studiosa delle neuroscienze mi dovrai dare una spiegazione si chiama il sedentipity tranquilla è più Jung che i neuroscienziati allora sì c'è una cosa mi manda mi fa mi mette mette in difficoltà il mio diciamo la mia serenità diciamo per non dire il mio autocontrollo ed è proprio centrato sulla domanda che volevo farti e quindi ne approfitto e te la faccio da una parte io comprendo bene no? che c'è bisogno di comprendere e che non si comprende mai abbastanza e per comprendere meglio dobbiamo fare quello che abbiamo detto metà pensiero tenere una considerazione bias sviluppare know-how cognitivo dobbiamo creare delle metodologie cognitive nuove dove le reti dei cervelli operano ad alta prestazione grazie alla costruzione dei team emotivi e grazie a un allenamento al lavoro diciamo al team work dei cervelli questo si può fare perché ogni tanto mi è successo e funziona benissimo a fronte di tutto questo di questo bisogno di comprendere vediamo che invece dilaga una ignoranza arrogante fatta di semplificazioni assolutamente fallaci che arrivano fino al terrapiattismo al complottismo e a tutti gli ismi che da lì diciamo muovendo si possono trovare e non entro nel merito a me quello che frustra moltissimo per esempio sulle chat io ho avuto un paio di episodi recentemente dove nelle chat dove ci sono meno freni dilaga dilaga il lato peggiore dell'animo umano secondo me è un po' un rifiuto di questa complessità che ci siamo autoimposti in questa luxury trap di cui parlavo proprio a Rari quindi da una parte ti dico per due volte sono intervenuto durissimamente in delle chat perché diciamo al limite del ci ho riflettuto un po' ma ero proprio emotivamente coinvolto molto più di quanto non mi accada normalmente perché secondo me questa tensione che vada bene è responsabilità di chi capisce di più e questa è una grande responsabilità degli intellettuali tra virgolette e di quelli che si pongono più problemi non saper comunicare allora a me questo causa frustrazione assistere a questo dilemma al bisogno e all'assoluta controtendenza invece del mondo che sembra voler andare verso il baratro no? nonostante sia chiaro che c'è il baratro basti vedere alcuni leader cosa hanno fatto recentemente no? alcuni grandi alcuni leader del mondo e questo è quello che a me frustra e non c'è niente a che fare con il mio status militare quello che chiedo a te invece come si fa a elaborare una strategia di comunicazione che riesca a influenzare che riesca a comunicare che riesca a far uscire diciamo quelli che comprendono o almeno ci provano dal loro isolamento dalla loro incomunicabilità con quelli che invece gridano ecco questa è la mia risposta domanda se avessi una risposta semplice ed efficace sarai la regina del mondo io due sede fa me l'ho dalle due di notte piena di sonno ma stavo scrivendo una risposta furiosa a una enorme stupidata che si era parlata davanti e poi a un certo punto mi sono detta lascia lascia perdere perché per comunicare bisogna essere in due cioè la comunicazione ce l'ho insegna a Grais che è stato citato nello scorso incontro è un fatto di ci chiede di collaborare se io sto parlando in italiano e tu mi rispondi in cinese o te ne vai o mi dai uno schiaffo non stai collaborando ti stai rifiutando il dialogo è una creazione condivisa quindi dobbiamo rendere seducente l'idea di sapere dialogare non c'è una strada diretta c'è una via attraversa dobbiamo dimostrare alle persone che dialogare è bello che dialogare è possibile che dialogare è di moda che dialogare è gratificante che dialogare è una roba che quelli fichi dialogano e via di questo passo cioè non possiamo lavorare per imposizione ma dobbiamo lavorare per seduzione che è un lavoro molto 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 più difficile ma è l'unico possibile perché altrimenti entriamo nel paradosso in un paradosso che ci paralizza perché è impossibile parlare con chi non vuole ascoltare è impossibile parlare con chi non vuole rispondere è impossibile infilarsi ed è frustrante infilarsi in un dialogo le cui regole implicite vengono costantemente travisate o tradite quindi dobbiamo sceglierci gli interlocutori le persone che sono questa sera qui insieme si sono scelte a vicenda e stanno partecipando in vario modo ciascuna alla sua maniera a una conversazione condivisa si sono scelte se noi avessimo sembrati a prendere cinque simpatici esponenti della curva sud e li avessimo rinfilati dentro questa chat o dentro questo incontro ne avremmo ricavato solo un sabotaggio per cui non li si può non li si può obbligare parlo di curva sud ma ci sono il mondo è pieno di mille curve sud alcune sono anche in Parlamento bisogna attraverso l'esempio attraverso la seduzione attraverso metodi indiretti che non per questo sono meno validi far capire che c'è un altro modo e questa è una prima parte della risposta la seconda parte della risposta è che bisogna cominciare da piccoli la scuola è il centro parlaremo di futuro la scuola è tutto il sistema educativo e poi formativo è il centro di quanto ci succederà domani dopo domani tra tre giorni tra tre anni tra trent'anni io credo che se noi riuscissimo a ripensare i modi di trasmissione del sapere i modi di trasmissione delle competenze sociali prima ancora di modi di trasmissione del sapere aggiornandoli adeguandoli al mondo in cui viviamo probabilmente ci procureremo un futuro decisamente migliore perché addestreremo nuove generazioni a ragionare e a decidere meglio di come le nostre generazioni hanno ragionato e deciso allora domande e risposte ne sono iniziate ad uscire io ringrazio sia Anna Maria che Fernando perché è stata intensa molto piacevole questa prima ora l'ascolto e io ora parto da una domanda ad Anna Maria che ne sintetizza tre o quattro che ne sono uscite nella prima parte quando lei ha parlato inizialmente e il tema è su futuro e visione condivisa del futuro cioè sono uscite diverse domande che ora accenderò velocemente su quanto le percezioni ci tolgono certezze nel progettare il futuro cioè sono incerto oggi e quindi non riesco a progettare il futuro tipo Elisa Lucatelli che chiedeva la memoria del passato come necessaria per la costruzione del futuro siamo un ponte su cui passano anche gli altri e poi ti accenno solo un'altra cosa prima di farti rispondere cosa si intende per visione condivisa allora sono tante domande facciamo una alla volta che magari ok allora riparto da una prima la memoria del passato come necessaria per la costruzione del futuro siamo un ponte su cui passano anche gli altri nel momento in cui condividiamo la memoria del passato io credo di sì però deve essere una memoria condivisa dico una piccola cosa a me è capitato spesso di raccontare a mio figlio cose che io mi ricordo o cose che mi ha raccontato mia madre o cose che mi hanno raccontato i miei nonni e raccontando cose che mi hanno raccontato i miei nonni risalgo alla fine dell'ottocento ai primi del novecento a stili di vita oggi inimmaginabili attraverso il racconto condivido dei pezzi di passato che non appartengono all'esperienza della persona che a cui la cosa viene raccontata e quindi sì credo che possiamo anche costruire dei ponti di memoria ok aggiungo un pezzo e ti faccio una seconda domanda prima di passare a Fernando Antonio Vergara chiedeva se la storia che studiamo viene infinata o deformata da percezioni soggettive come possiamo concepire un futuro se le premesse sono così differenziate in partenza qui c'è un bel problema ed è un problema di pensiero critico di confronto di selezione e confronto delle fonti quindi torniamo di nuovo a un un sistema di di istruzione che metta le persone che mette i ragazzi prima ho detto da destra qualcuno si mi spiace è scandalizzato e non stavo parlando di addestrare come si addestrano i cani o i cavalli addestrare nel senso di rendere più capaci rendere più destri ecco che aiuti i ragazzi a sviluppare pensiero critico c'è una una ricerca di un paio d'anni fa che diceva che gli universitari non sanno fare ricerche sul web si fermano alla prima evidenza che esce non sanno distinguere tra comunicazione pubblicitaria e informazione caspita queste cose vanno insegnate ai bambini non possiamo lasciarli soli nella rete e quindi di nuovo per costruire un buon futuro dobbiamo dotarci di una buona visione del passato come selezionare le informazioni attraverso il pensiero qui non c'è niente di facile ma ce la possiamo fare ci possiamo provare allora faccio adesso una domanda a Fernando che in realtà è una connessione tra i vostri due intendenti sempre Antonio Vergara che è stato molto prolifio nelle domande scriveva ci sono centinaia di micro realtà che convivono sulla terra con lingue priorità storie diverse come si potrebbe integrare o conciliare in una percezione del futuro se non hanno premesse comuni e però se nell'ambito globale uno solo cioè come riusciamo a mettere a fattore comune tutta questa differenza che abbiamo a livello globale mondiale la mia personale risposta è che non ci riusciamo e non ha neanche secondo me molto senso cercare di riuscirci e questo è un errore che abbiamo fatto noi occidentali specialmente alcuni paesi anche in tempi recenti pensare di applicare un modello a realtà diverse non esiste un modello per tutte le realtà già abbiamo enormi difficoltà a identificarci pienamente con una lingua comune con una storia comune in un paese come l'Italia che però è un po' parecchio lungo diciamo parliamo dell'Europa io ho vissuto parecchio negli Stati Uniti quando ero di là l'Europa mi sembrava una cosa omogenea unita perché c'erano differenze tra gli europei e gli americani adesso qui in Italia sapete tutti quali sono le molte percezioni quindi non c'è nel destino dell'umanità secondo me una delle magnifiche sorti e progressive verso un mondo ideale e il mondo è così si sviluppa al di fuori della nostra diciamo del nostro controllo gli stessi sistemi umani detto questo uno dice allora siamo destinati proprio all'inferno in prospettiva no perché la natura cioè il mondo si evolve così si evolve a cespugli si fa passi avanti passi indietro la storia la storia ci insegna che i sistemi umani come anche i gruppi come le coppie tendono hanno delle tendenze centripete e delle tendenze centrifughe e allora dice l'identità comune la visione comune devi trovare una comunità devi formare una comunità e questa è una sfida si fa attraverso molti strumenti il linguaggio la narrazione è importantissima e persino la storia come è raccontata ancorché con bias perché anche la storia è raccontata con bias ma quella comunque ha una valenza di costruzione di identità la buona notizia è che gli esseri umani hanno un enorme bisogno di identità ce l'abbiamo scritta dentro i geni quindi abbiamo bisogno di qualcosa in cui riconoscerci poi se questo qualcosa ci costa troppo perché il nostro interesse individuale viene leso allora tendiamo a essere centrifughi poi torniamo centripeti questo succede per le regioni per gli stati e c'è una continua dialettica come avviene nei sistemi complessi perché noi stiamo parlando dei sistemi complessi e allora ecco perché la complessità è importante come lente per leggere la realtà perché ci dà non un relativismo morale la morale l'etica diventa un collante diciamo delle dinamiche del sistema complesso ma ci aiuta a essere pragmatici a non farci illusioni a essere idealisti nella misura in cui crea diciamo valore per quel sistema e non certamente non possiamo pretendere che si sviluppi una comune visione per il mondo possiamo sperare però che si converga su alcuni interessi comuni e questo è un altro fenomeno quando ci sono interessi comuni c'è una tendenza all'aggregazione e quindi dobbiamo lavorarci come diceva Anna Maria non c'è niente di facile noi ci siamo costruiti questa complessità attraverso quella appunto questa luxury trap che è una definizione secondo me molto interessante e adesso ce la dobbiamo smenare come dicono meno male che qualcuno si si ingegna per trovare approcci più più efficaci faccio adesso una domanda che farò sia a te e a Anna Maria vi chiedo una risposta veloce perché sono curioso di sapere il vostro punto di vista e poi passiamo a molte altre che sono uscite quindi Simonetta Simoni chiedeva per il futuro serve una leadership consapevole dei bias e anche molte altre persone spugneranno il problema dell'insegnamento di tutta la questione dei bias già a partire dalla scuola secondo me sì secondo me sì perché se non altro una leadership che conosca e gestisca i governi la possibilità che abbiamo di ingannarci da soli è girato un video recente con tutte le giravolte del presidente degli Stati Uniti nei confronti della Covid ha pubblicato credo il Guardian la BBC insomma in inglese ed è impressionante ed è impressionante e credo che dietro a ciascuna di queste giravolte si potrebbe mettere il nome di un bias e allora forse sapere che ci sono degli ostacoli ci aiuta a non inceparci dentro e a non cascarci con tutto con il naso dentro insomma dai per quanto mi riguarda la risposta è sì non solo è sì in teoria e andrebbe veramente fatto nella scuola con i metodi per i bambini piccoli no ma noi lo facciamo cerchiamo di farlo in qualche misura perché nella formazione alla leadership il primo modulo è la leadership di se stessi comprendere se stessi per poi poter interagire col team con l'organizzazione e con la dimensione strategica quindi è un investimento lo dicevamo prima sul metapensiero sul pensare come pensare che è importantissimo perché aiuta a comprendere e riduce lo diceva Anna Maria prima bisogna insegnare da piccoli e riduce quegli imprinting no integralisti che la gente si porta già da piccoli ok grazie un'altra domanda per Anna Maria in realtà sono due domande insieme ma sono della coppia Simoncini-Cerni quindi Dario mentre tu parlavi nel primo intervento aveva chiesto ma esistono persone che non hanno pregiudizi e te dico subito dopo a seguire ma esistono dei bias sui bias cioè delle ricostruzioni alimentari a proposito dei pregiudizi sui nostri bias la seconda domanda è facile rispondere in realtà ne avevo già parlato c'è questo bias del punto cieco che dice tutti gli altri sono affetti dal bias tranne me insomma con questo si chiude un cerchio paradossale no? ecco com'era la prima domanda? esistono persone che non hanno pregiudizi chiedeva Dario secondo me no perché anche cioè una scorciatore troppo facile ci mette al riparo ci conforta ci semplifica tanto la vita avere pregiudizi per carità o meglio noi lavoriamo molto con gli stereotipi per esempio qualche volta gli stereotipi non sono necessariamente cattivi voglio dire abbiamo lo stereotipo del fatto che i cani che abbassano la coda possono mordere questo ci può aiutare abbiamo una serie di stereotipi che ci aiutano a districarci nel se vediamo i tigri che non è una buona idea infilare un braccio dentro la gabbia della tigre ecco chi ha visto Tiger Man sa cosa voglio dire allora lo stereotipo della tigre che morde del cane che morde ci aiutano a non farci morsicare in sostanza quando però lo stereotipo si trasforma in pregiudizio per cui non riesco a immaginare un cane che non morda o una tigre che appena mi vede non mi salta addosso o un ho usato non a caso gli animali perché non volevo infilarmi dentro paludi pericolose ecco quando lo stereotipo diventa pregiudizio allora è impossibile uscire non è possibile uscire quindi in qualche modo qualche embrione di stereotipo c'è nella testa di tutti noi ci aiuta anche a è molto semplice voglio dire versate lo stereotipo dell'italiano all'estero pizza e mandolino grande gestualità grandi famiglie affetti eccetera qualcosa che c'è anche senso c'è dentro ci abbiamo più pizza e mandolino e famiglia noi degli svedesi però se poi diventa il pregiudizio gli italiani solo pizza e mandolino e facchiamocela mafia non va bene è chiaro di nuovo l'equilibrio l'etica è nell'equilibrio sì questa ci è piaciuta molto questa mosca me la scrivo sopra la scritta mia allora faccio un altro piccolo passaggio per tornare a Fernando perché quindi quello che ti dicevi in qualche modo io lo interpretavo come a un certo punto c'è il rischio di sconnetterci completamente dal mondo cioè quello che ti citavi adesso nel senso io non sono più connesso in connessione con quello che accade e chiedo a Fernando perché tra i vari commenti sono usciti poi ad esempio c'era Francesco Catone che diceva quindi è importante governare quegli dinamici sempre più complessi mentre tu parlai Fernando ho sempre Dario molto presente che diceva dobbiamo capire come influenzare sistemi complessi quindi torna a questo tema anche della messa a terra della concretezza e la domanda che ti faccio però è questa da parte di Marianella Scravi che dice quali sono le principali caratteristiche di un'organizzazione efficace e come questo è realizzabile nella PIA una domanda leggera piccola allora cercherò di essere velocissimo perché è quello su cui lavoro da ormai parecchio tempo innanzitutto bisogna ricreare una dimensione della la dimensione ancestrale del piccolo gruppo in una organizzazione una grande organizzazione questa è una grande sfida perché il piccolo gruppo ancestrale che è quello che ci ha che ci ha dato i geni che tuttora come diceva giustamente Anna Maria ci portiamo da diciamo dal paleolitico il piccolo gruppo era un gruppo ad alte prestazioni che ha assicurato la sopravvivenza in un ambiente difficilissimo e i legami erano di fiducia profonda e l'azione collettiva era un'azione collettiva molto efficace se vuoi un'organizzazione ad alte prestazioni devi ricreare quel tipo di legame non è un caso che le organizzazioni ad alte prestazioni ce l'hanno le forze speciali un gruppo da caccia una squadra di calcio si avvicinano a quelle dinamiche di coesione di fiducia molto forti la sfida è trasporre queste dinamiche invece a organizzazioni che sono frammentate burocratizzate dove tu non conosci le persone perché ce ne sono troppe dove i capi sono lontani e così via di scorrere ci sono strategie per operare questa trasposizione così come il legame del lupo per il capobranco si è trasposto nel legame del cane verso il padrone così i legami della diciamo dell'azione collettiva profonda del gruppo ancestrale debbono essere trasposti alle grandi organizzazioni attraverso degli investimenti un grosso investimento è proprio sull'identità e su un senso di scopo e su un senso di cura nel senso anglosassone to care l'organizzazione deve curarsi delle persone le persone devono sapere che c'è cura verso di loro e poi ci deve essere quella che in letteratura viene chiamata la percezione di giustizia ed equità nell'organizzazione perché quella rende coesiva e permette la fiducia la fiducia è un abilitatore dell'efficacia dell'azione collettiva ora questo è il concetto in pratica bisogna insegnare leadership bisogna capire come si fa leadership non solo insegnare i concetti ma farla farla fare e quindi sapere saper fare e saper essere leader e leader non è il top manager cosiddetto leader sono tutti i leader sono quelli al basso livello perché lì si fa la leadership in prima linea quella che fa la differenza quindi creare una leadership sistemica dentro un'organizzazione potremmo parlare molto a lungo non è il caso ma se una domanda una short answer è quella che diciamo voleva la nostra interlocutrice per me è questa e infatti ho fatto la mia piccola missione nella vita è quella di cercare di condividere queste esperienze che ho visto operare in concreto assolutamente in concreto da un elemento di due velivoli che è stata la prima cosa che ho comandato io ero leader c'era un gregario fino al comando della squadra aerea 20.000 persone 350 rovani allora una piccola nota di colore però per un momento di consapevolezza in diretta perché Margherita da cortà Pumei scrive non avrei creduto di sentirmi in totale sinfonia con un generale pensiero critico creativo sistemico grazie io ringrazio a mia volta ma voglio sottolineare che qui stiamo trattando di un bias esatto proprio per questo lo dicevo perché era proprio meta cioè proprio in diretta quindi un momento di stereotipi esatto no no proprio per questo un'ultima domanda veloce per Fernando che la devo andare ad Anna Maria e Daniela ti chiede il legame deve essere per forza basato sull'esistenza di un nemico comune legame più del intero del gruppo dell'organizzazione oppure è sufficiente il magnetismo di un progetto serve Eros per questo allora il nemico comune è certamente attiva delle dinamiche coesive ma sono dinamiche emergenziali quello che conta è il senso di uno scopo comune perché una grande gratificazione per gli esseri umani perché ed è legata non a un'etica diciamo una morale ma è legata proprio alle dinamiche profonde del nostro DNA è ottenere risultati insieme agli altri che beneficiano di cui tu benefici e se si riesce a dare questo senso di scopo comune il beneficio non deve essere necessariamente materiale può essere status può essere un reward una ricompensa di qualsiasi genere che abbia valore quindi è certamente sufficiente il magnetismo di un progetto se è accompagnato da una buona leadership quindi da un'etica da un equilibrio da una condivisione da una partecipazione è certamente necessario l'eros ci sta bene sempre dico io come collante allora torno ad Anna Maria con una domanda che aveva fatto un'altra Anna Maria Anna Maria Grazione che ti faceva i complimenti per la lezione magistrale che diceva la parte più complessa mi sembra quella di costruire visioni condivise che rimanda al problema della costruzione della realtà comune non è una domanda ma c'è molta sostanza su questa affermazione che ne pensi penso che sì è difficile c'è una matrioska di difficoltà una dentro l'altra o una fuori dall'altra come vogliamo è difficile capirsi sui termini è difficile la prima cosa che è difficile è catturare l'attenzione delle persone oggi in rete il livello medio d'attenzione sta calcolato in 8 secondi che è un secondo meno del livello medio d'attenzione di un pesce rosso che è un po' preoccupante siamo sempre più distratti da qualcos'altro da cui è ulteriormente facile distrarsi quindi questo è il primo è il primo punto d'altra parte se non c'è attenzione vuol dire che non c'è motivazione se non c'è motivazione non c'è spinta in avanti quindi bisogna motivare le persone a stare attente catturare la loro attenzione offrendo il compenso lo metto fra mille virgolette per carità di un contenuto di valore dopodiché bisogna esprimere quel contenuto di valore in maniera comprensibile dopodiché bisogna contestualizzare quel contenuto di valore all'interno di una cornice condivisa e nel frattempo uno che è quello per cui stai facendo questo fantastico edificio è andato da un'altra parte è cambiato stanza è girato il canale è una sfida pazzesca è una sfida pazzesca d'altra parte ma questa è una sfida che vediamo nei rapporti interpersonali vediamo nei rapporti aziendali vediamo nei rapporti di potere perfino fra leader politici e gruppi elettorali all'interno dei gruppi di pressione all'interno delle aziende all'interno dell'organizzazione è una specie di tela di Penelope di relazioni che si creano e si distruggono e vanno ogni volta ritessute possibilmente con una trama non più lasca ma più fitta qualche volta viene più fitta qualche volta viene più lasca qualche volta anche quell'altro si mette lì e tessa insieme a noi un lavoro condiviso insomma come dicevamo però Penelope si chiama Penelope quel lavoro condiviso ha un nome ben preciso allora abbiamo gli ultimi cinque minuti insieme io adesso chiederò a entrambi di consigliarci un libro c'è una lettura da fare visto visti i tanti tanti stimoli e le tante domande che sono uscite fuori se fuori io mi scuso con quelle che non ho potuto persone a cui non ho potuto dare spazio però in alcune case abbiamo sintetizzato e poi le cureremo in forma scritta quindi prima chieda a Fernando che se hai un consiglio di lettura un libro che pensi ci possa aiutare in questo continuare a farci domande a progettare visioni diciamo un annetto fa questo mio amico israeliano che è stato anche coautore del libro che ho scritto mi ha regalato due libri di Harari io l'ho letto con molto interesse perché mi interessa quel tipo di discorso e poi ne ho comprato un terzo che è meno forse diciamo profondo interessante degli altri due però è molto attuale e aiuta per alcune chiavi di lettura di questo momento storico più immediato che è 21 lezioni per il 21esimo secolo quindi se il bisogno è di attualità e secondo me c'è bisogno di attualità quello può essere un buon consiglio se invece si vuole andare un po' più come dice Anna Maria nel passato per comprendere il futuro si investe un po' più negli altri due Homo sapiens e Homo Deus Anna Maria che libro ci consigli? Do un consiglio in apparenza frivolo ma non così frivolo leggere o rileggere io lo faccio ogni vent'anni in media quindi sono lì per rifarlo per la terza volta la trilogia della galassia di Isaac Asimov perché è una grandissima costruzione letteraria sulla complessità perché c'è dentro l'intuizione meravigliosa della psicostoria perché è una è una storia assolutamente appassionante perché Asimov è uno che ha mescolato scienza e narrazioni perché è uno dei pochi che negli anni sessanta intervistato sul futuro credo da la IF ha previsto una quantità di cose che di solito che di solito gli altri intervistati non percepivano e che si sono realizzate quindi è stato proprio bravo e poi perché è una lettura deliziosa ci riporta un po' indietro nel tempo ma ci proietta contemporaneamente molto avanti quindi la fantascienza per provare a capire il futuro ora semplifico un po' troppo però insomma ma anche una fantascienza un po' datata che è un ulteriore salto temporale no? esatto un'altra fantascienza che è appena un po' datata è tutta la narrativa di Gibson per esempio che a fine anni 90 immaginava prima ancora che uscisse Matrix immaginava la rete eccetera poi la rete è nata in modo molto diverso da come la immaginava lui però adesso comincia un po' somigliare quindi è arrivato anche quella è una lettura interessante va bene un futuro passato diciamo allora io ringrazio e molto anche da parte di tutte le altre persone come me mi hanno ascoltato vi ringrazio moltissimo perché è stata un'ora e mezza che è volata ricca di stimoli di spunti di ulteriori rimandi ricordo a tutti quanti che presto nel video di un paio di giorni al massimo sarà pronta la registrazione video che metteremo sul canale YouTube dei Complexity Institute se volete vorrete rivederla e risponderla e oltre a ringraziare appunto ancora Anna Maria Ternando vi ricordo che mercoledì prossimo 20 maggio si terrà il prossimo webinar al quale da domani vi potete già registrare dal titolo Il valore del passato per la costruzione del futuro con Beppe Zollo e Stefano Consiglio che ripeteranno di arte e mediazione culturale nella posizione dell'ordine e con questo insomma ho finito e grazie davvero grazie tanti a voi è stato molto interessante buona serata un saluto a tutti grazie grazie Fernando grazie Anna Maria arrivederci ciao Alberto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti